E' un compositore e un pianista di soli 19 anni, ma ha già firmato la colonna sonora della fiction di successo Ognuno è Perfetto, andata in onda sul Rai 1. A dargli preziosi consigli anche il grande maestro Ennio Morricone. Siamo andati ad Apricena per conoscerlo meglio. Questo programma è offerto da Ferrovie del Gargano, Gruppo Saccia, Carni Affini e Hamburgeria Gourmet. Carmine Padula, compositore e pianista di Apricena, sei giovanissimo, hai soltanto 19 anni, il tuo amore per la musica è nato a 11 anni, ma a 18 è arrivata la vera svolta. Così giovane, hai già firmato la colonna sonora di un'importante fiction di Rai 1, Ognuno è Perfetto, e oggi ci ospiti proprio qui dove tutto è nato. Sì, la maggior parte dei temi sono nati qui, su queste tastiere, su questo computer, anche se molti in realtà poi mi venivano, mentre vedevo il film, mi venivano proprio delle idee musicali che poi qui sviluppavo logicamente. E' un amore che è nato tardivamente rispetto a quello che si pensa, perché magari quando uno si afferma così giovane si può pensare che abbia iniziato da molto piccolo. Però ho iniziato in prima media, perché mia madre quando era piccola studiava pianoforte, quindi avevo il pianoforte a casa. E allora in prima media c'era l'indirizzo musicale, che quindi era gratuito, ho detto vada proviamoci, se ti piace. Il primo anno è stato proprio tragico, perché non mi piaceva, bisticciavo, perché la musica è un linguaggio molto molto complesso. Poi io sono pigro di natura, non mi piace fare quel che mi piace, non mi piace fare quel che non mi piace, la musica non mi aveva catturato. Poi c'è stato un evento purtroppo brutto nella mia vita, che è stato quello che ho perso mio papà, e quindi la musica poi per me è diventata un rifugio. Ho iniziato spontaneamente a comporre dei brani e poi da lì è stato un amore che spero e credo che sarà per tutta la vita. E io te lo auguro. Senti, ma come è nata questa cosa di Ognuno è perfetto? Cioè il regista, che è un regista famoso, ha realizzato anche braccialetti rossi, ti ha notato e ti ha fatto questa proposta? Sì, una serie di casualità mi ha portato in un concerto ad Assisi, in Umbria vicino a Assisi, e tra il pubblico c'era proprio Campiotti, il regista dei braccialetti rossi, che alla fine del concerto si è avvicinato e mi ha fatto questa proposta. Io ero un po' incredulo. Ma come ti ha detto? Raccontaci proprio. Ciao Carmine, piacere, mi fai un autografo al bambino perché aveva il figlio, io ho fatto l'autografo, e dopo che io ho fatto l'autografo perché aveva comprato il cd, alla fine ho detto guarda io sono regista, ho fatto anche braccialetti rossi, non so, ti farebbe piacere fare la prossima colonna sonora del mio nuovo film? E tu? Mi è rimasto un po', ho detto è possibile, perché poi a 17 anni non avevo mai fatto nulla nella mia vita, mai una pubblicità, un cortometraggio zero, per me era abbastanza impossibile che un regista mi proponesse un progetto così importante, anche perché io subito ho capito che la musica ha un ruolo fondamentale in un film, perché la musica può aggiungere, quindi rendere più bello, ma anche rendere più brutto un film, quindi io dico sempre a Giacomo, dico sei stato un po' folle, perché andare da un 17enne, un ragazzino, e proporgli dopo un'ora di concerto di fare la musica del tuo film, però ecco... Beh evidentemente tanto folle non è stato, perché le musiche stanno avendo un grandissimo successo, addirittura la Rai ha deciso di pubblicare questo album. Sì, 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 la colonna sonora è stata benissimo nei store digitali, migliaia, migliaia di acquisti, e la Rai ha deciso appunto di, oltre al cofanetto dei DVD con tutti gli episodi, di fare anche quello della colonna sonora che ho fatto per questo film, proprio perché è piaciuta tanto al pubblico, quindi per me è una grande soddisfazione questa della Rai che mi ha fatto. Però torniamo un attimo indietro, lui ti ha fatto questa proposta e tu lì sei andato in crisi o ti sei messo subito a lavorare? Quanto tempo c'è voluto? Allora, all'inizio ero super euforico, però poi sono andato in una crisi profonda, perché mi rendevo conto, non delle mie potenzialità, ma forse avevo paura di non essere all'altezza di quel che loro volevano. Io sapevo quel che potevo fare, ma non sapevo quel che loro volevano da me. E allora mi sono messo per dieci giorni con le cuffie ad ascoltare qualsiasi tipo di colonna sonora esistente. Quindi sono messo su Spotify di tutto, ho ascoltato, e ho iniziato appunto a fare dei provini, e non nego che i primi provini che mandai, loro erano un po' perplessi più che altro sulla forma, ma non sul tema, perché io sono stato sempre abituato a comporre per concerto, per CD, invece la musica per immagine è tutt'altro. Però poi dopo uno studio profondo, molto mi ha aiutato anche appunto il regista, che ha tantissima esperienza, mi sono attorniato di persone molto molto competenti, molto umane soprattutto, quindi ho creato un team di lavoro direi eccezionale, e poi ecco le musiche dopo un mese hanno iniziato a prendere una forma che è piaciuta tantissimo. E ho cercato di fare anche un po' una cosa anticonvenzionale, perché ormai la musica da film ha un suo standard, i compositori tendono ad utilizzare un linguaggio che nel tempo funziona. Però ho notato che spesso nelle fiction si utilizza un linguaggio che per me è un commento, cioè io vedo il film, ci sta la musica, in quel momento ci sta, però appena finisco di vedere il film non mi rimane nulla musicalmente parlando. Invece credo che le grandi colonne sonore, per citarne alcuni, Morricone, Zimmer, Williams, tutti questi grandissimi della musica da film, il loro grande pregio è quello di creare dei temi molto orecchiabili, che sottolineano ma che siano anche indipendenti dall'immagine. E quindi ho cercato di creare un qualcosa che non fosse per forza sottoprodotto dell'immagine, ma che avesse la sua identità, che sotto l'immagine andasse bene, però che non fosse soltanto un prodotto del film, ma un qualcosa a sé, che aveva una sua identità ben precisa. Tu hai citato Ennio Morricone, Ennio Morricone ha un ruolo importante in questa fase della tua vita, perché lui ha voluto incontrarti. Sì, sì, sì. Ci racconti com'è andata? Sì, allora, ho avuto la fortuna di registrare, oltre che con l'orchestra sinfonica della RAI, che è un'orchestra eccezionale, con un'altra orchestra eccezionale, che è quella della Roma Sinfonietta, che è l'orchestra che da 30 anni lo segue, fa le sue registrazioni, i suoi concerti. E quindi ho avuto la fortuna di registrare con loro parte della colonna sonora, e ecco, tramite loro il maestro è venuto a conoscenza, e sono stato a casa sua, ed è stato un incontro molto particolare, perché il maestro è una persona che osserva molto, che tende mai a dare pochi giudizi, e mi ha analizzato e mi ha scrutato bene, mi ha detto qualche piccola parola che mi ha lusingato molto. Ma la vogliamo sapere, ovviamente. Prima mi ha detto che brutto mestiere che ti sei scelto. Sì, detto da lui. Poi mi ha detto, dopo che gli dicevano, ma maestro, ma lui è bravo, ha detto, ho capito, ho capito, ho fatto bene andare in pensione, ho capito. Ah, vedi, che bello, guarda, è un'esperienza fantastica, immagino. Sì, 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 poi abbiamo visto alcune partiture, mi ha dato dei consigli veramente straordinari, perché non erano consigli che andassero a modificare la forma dei brani, ma erano dei piccoli consigli, che applicati facevano la differenza. Per citarne uno dei tanti, mi ha detto che non bisogna mai doppiare dalle parti lontane. Quindi, per esempio, i violini primi non possono mai essere doppiati dalle viole, perché a livello di sound, di sonorità, risulta meno efficace che magari tra due gruppi vicini. E quindi questo poi, sperimentato nella musica, ti rendi conto che effettivamente è tutto un altro mondo. Quindi sono quei piccoli consigli di chi ha l'esperienza, di chi comunque è un grandissimo, credo che sia il più grande compositore del Novecento, Morricone, è del Duemila, che applicati poi fanno la differenza. Io vedo sui brani nuovi che faccio, con i suoi consigli, veramente c'è quel sound, quella maturità, che soltanto uno come lui poteva darmi e avere. Senti, emoziona a me sentirlo. Non oso immaginare la tua di sensazione che hai provato in quel momento. Sì, sì, è stato... In realtà, per i primi dieci minuti, ero abbastanza immobile. Stavo lì, ero passivo a quel che mi stava succedendo. Poi ho preso coraggio, anche per ringraziare il maestro Lanzillotta, che mi ha accompagnato, che il suo braccio destro è stato lui un po' a caricarmi, dai Carmine, insomma. E quindi poi ce l'ho fatto. E' stato lui stesso a contattarti? Sì, 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 sì. Mi ha voluto lui. All'inizio ero... Pensavo fosse uno scherzo, perché, insomma, dalla sera alla mattina, ti chiami un ricone, insomma. Però poi ho capito che era vero, e quindi non sapevo dove mettere la faccia, in realtà, perché pensavo fosse uno scherzo, però poi ho capito che era lui e... Che meraviglia. Sì. Senti, invece, rivedere la fiction, una fiction, tra l'altro, molto bella, io l'ho vista e mi è piaciuta molto. E ha avuto un grandissimo successo di pubblico. Rivederla e riascoltare le tue musiche? Beh, allora, devo dire la verità, non pensavo, perché comunque io la fiction la sapevo a memoria, perché ci abbiamo lavorato un anno, quindi io le tre puntate le sapevo... E tua mamma? E mia madre, fiumi di lacrime. Sì, immagino. Sì, sì. In realtà pensavo che non mi facesse questo effetto, perché ormai lo conosco il film, lo vedevo sui grandissimi schermi mentre lo missavamo, quindi sapevo anche il cagnolino quando abbaiava. Non rivederlo più, perché avevo le puntate, però dicevo, no, me lo voglio godere. E no, è davvero stata... Lo auguro a tutti i compositori di provare una emozione del genere. e a contatto con questi ragazzi. Sì, allora loro sono meravigliosi, io veramente sono in contatto con tutti loro, veramente allora loro hanno l'abilità, pensiamo che noi dobbiamo insegnare qualcosa a loro, ma loro nella loro purezza, nella loro ingenuità ti insegnano molto. Una cosa bella che hanno per esempio, perché io sono molto fan degli abbracci, oggi nella nostra società c'è questa tendenza di dare la mano, il bacino, che è molto freddo, è classica nella cultura occidentale, invece l'abbraccio è la cosa più bella, la manifestazione di affetto più bella. E loro ce l'hanno proprio dentro. Loro quando iniziava la giornata sul set, iniziava la fila degli abbracci, e loro andavano dal regista, dal direttore alla fotografia, e abbracciavano. E si creava un clima veramente meraviglioso. Quindi noi quando ci vediamo, ma di quegli abbracci sentiti, proprio non abbracci giusto sentiti. Poi sono un po', stanno sempre lì a farti complimenti. Eh Carmine, ma sai che io so che Morricone ti copia le musiche? Io dico no, è impossibile. Lui, no, 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 credimi, io lo so che è così. Anche col regista, guarda che Spielberg ti copia i film. Sono fantastici. Sì, sì, veramente, è stata un'esperienza anche molto umana per me, oltre che professionale, perché ho conosciuto veramente da un altro punto di vista la sindrome di Down. Io non ho a che fare nella mia vita solitamente con la sindrome e quindi avevo un'altra idea di loro, con la massima onesta intellettuale. Però, stando a contatto con questo gruppo, devo dire veramente che ho imparato molto, ho imparato molto e quindi oltre che una crescita professionale, c'è stata molta crescita umana dentro di me. E sono stati proprio loro a suggerirti di fare una canzone di Ognuno è Perfetto, che tra l'altro è stata cantata anche da Emma Marrone. Sì, in realtà l'idea è stata di Valentina Venturin, che nella serie fa Giulia, che saluto, che ogni giorno ci iscriviamo, diciamo che siamo fidanzati. e lei ha detto ma scusate perché noi condividevamo sempre queste canzoni sulla diversità nel nostro gruppo di Ognuno è Perfetto. Allora lei un giorno dice ma scusate ma perché non facciamo anche noi una canzone di Ognuno è Perfetto? E allora ci siamo sentiti il regista e il produttore che ha prodotto anche la canzone e abbiamo detto che era un'idea, un'ottima idea. Allora abbiamo pensato di prendere un tema del film, che è il tema principale, che è Aura, e riadattarlo in una forma canzone, quindi strofa, ritornello, un arrangiamento diverso. Lui ha fatto il testo, io l'ho aiutato proprio con la musica e abbiamo avuto un interprete d'eccezione perché Emma, quando ha ascoltato questa canzone, è rimasta molto molto colpita e ha lottato veramente, nel vero senso della parola, per cantare con noi questa canzone, quindi colgo l'occasione anche per ringraziarla davvero perché è di una grande umanità ottica e di una grande professionalità. Senza parole, ma con il cuore, se io fossi te, e tu fossi me. Insomma, ti stanno succedendo tante cose belle, tra l'altro è partito anche da Foggia il tour della colonna sonora, tu hai voluto che partisse proprio dalla tua terra, perché ti avevano proposto di farlo anche all'Auditorium della Musica di Roma. Sì, sì, sì. In realtà, appunto, avevo avuto un po' di proposte, magari per un musicista più allettanti, però io credo che chi può dare qualcosa alla nostra terra deve farlo, e non soltanto non dobbiamo pretendere di avere, ma anche di dare. E quindi, per me è un rito scaramantico, partire sempre dalla mia terra, ho fatto già due tour, che è l'Orizzonti Tour e il Dreamland Tour, dove sono partito da Apricena. Naturalmente per questo progetto serviva una piazza più importante, che era quella di Foggia. E poi, a dire la verità, per me suonare al Giordano, anche se sono andato in posti bellissimi, magari più grandi, con più storia, però per me suonare al Giordano era una promessa che mi ero fatto, perché il Giordano è stato il primo teatro in cui entrai nella mia vita. E io rimasti folgorato da questa visione e ero piccolissimo, e ho detto un giorno io ci suonerò. Ah, vedi? Che bello! Sì, e quindi per me è stato sia un... ho dato e ricevuto, perché per me il Giordano rappresentava un grande sogno che si è realizzato. Ecco, il legame con la Terra, ma tu pensi di rimanerci in questa Terra? Beh, questa è una bella domanda, nel senso che io ci vorrei rimanere, però logicamente il mestiere che mi sono scelto credo che mi porterà ad abbandonarla, anche se non col cuore, perché per quanti problemi ci possano essere comunque la Puglia, il Sud e tutta un'altra cosa rispetto a... Che programmi hai? Beh, io credo molto probabilmente che mi trasferirò su Roma o comunque in una città dove per via dei contatti lavorativi e quant'altro posso lavorare meglio, però non è escluso che rimanga qui, dipende poi se riesco a trovare un nesso, certo è che se sono più fuori che qui è meglio essere stabile fuori, però ci ritornerò sempre con grande gioia. Ci sono già dei progetti in cantiere? Sì, allora in realtà mi hanno proposto un po' di film che adesso sto vagliando perché per me il lavoro deve essere comunque qualcosa che mi piace, tipo ho rifiutato un film horror perché non è il mio genere, ne vedo qualcuno però fare le musiche di un film horror non era proprio una cosa gratificante per me con tutto il rispetto per il film horror e quindi ho altri progetti che mi hanno proposto che sto valutando e che insomma vedremo a breve da marzo comunque partirò con il nuovo e in più ho scritto delle musiche per uno spettacolo teatrale. Che bello, allora noi ti facciamo un enorme in bocca al lupo, complimenti per tutto quello che stai facendo, sei davvero molto molto bravo quindi io ti porto l'abbraccio di tutta la tua terra. Grazie. Però voglio chiudere con un'ultima cosa, pensi che tuo padre da lassù sarà molto orgoglioso di te? Spero, spero di sì, io ho dei piccoli segnali che poi per alcuni possono essere suggestioni ma sento che lui è vicino a me e me lo fa sentire, sì. Grazie a tutti.